Vuoi integrare il tuo piano di studi per partecipare a concorsi pubblici o essere ammesso a laurea magistrale o scuole di specializzazione e ti occorrono crediti in lingua francese? Icotea mette a disposizione dei suoi studenti una vasta offerta formativa. Iscriviti al corso singolo in lingua francese 2 LLIN 04. Lezioni ed esami si svolgono interamente online. Per conoscere tutti i dettagli vai su www.icotea.it, cerca tra i corsi singoli, clicca su lingua francese 2 LLIN 04.